Allora una mattina di formazione gratuita organizzata dal comune di Salerno in collaborazione con About Lab. Parliamo di come si usa Facebook per vendere, per fare business e cerchiamo di spiegare alle persone, agli imprenditori, come possono raggiungere i loro obiettivi utilizzando i social media. Parliamo di web, parliamo di internet, cercando di dare consapevolezza di questo strumento e utilizzarlo a pieno. Quindi una mattina piacevole con un'aula molto giovane di imprenditori giovani che si mettono in gioco. Fortemente voluto dal comune di Salerno, noi come agenzia About Lab abbiamo messo a disposizione la nostra competenza per parlare di questi temi di cui è importantissimo sapere sempre di più. Buongiorno, allora stamattina praticamente presentiamo, patrocinato dal comune di Salerno, questa iniziativa che è proprio sull'utilizzo di Facebook e dell'approfondimento sul diritto dei social network. L'attività è proposta soprattutto ai commercianti e alle piccole imprese perché riteniamo che in questo momento storico in cui c'è un momento di crisi molto forte che attanaglia tutto il paese e in un clima di globalizzazione sia importante per la nostra città e per i nostri commercianti e gli artigiani fare un approfondimento su quello che è l'utilizzo dei social network che è grande potenzialità per la vendita online. Ringrazio l'assessore Picarone per la presenza e aver sposato subito questa iniziativa e tutta l'amministrazione che ha creduto nell'evento e ringrazio tutti i partecipanti. Credo che questo sia uno dei primi convegni che faremo per questo settore e spero e ne aspico che ce ne siano altre per la crescita sempre della nostra città. Passo la parola al sessore Picarone. Grande iniziativa, un plauso al consigliere Loffredo, vicepresidente della commissione attività produttive che ha avuto un'intuizione importante. Siamo in tempi di web, di social network ed è importante che si utilizzino tutti gli strumenti nel commercio, nei pubblici esercizi, nelle attività ricettive per catturare sempre nuovi clienti. I clienti oggi vanno e vengono, sono tantissimi in questa nostra città, ricca di iniziative e non sono configurabili come il cliente tradizionale da raggiungere e da conservare. Sono nuove le opportunità ma è anche più competitiva questa fase per cui utilizzare soprattutto per i giovani che hanno molta dimestichezza con questi strumenti, avere un aiuto professionale con un corso gratuito che oggi, grazie all'iniziativa del consigliere Loffredo, l'amministrazione mette in campo, penso che sia un buon inizio per sperimentare nuove modalità che diano un effettivo aiuto alle attività produttive. Quindi credo che proseguiremo in questo senso, collaboreremo affinché altre situazioni di questo tipo possano dare una mano al nostro territorio. Grazie. Grazie. Grazie.